Gentili telespettatori, buona giornata. Giorgia Meloni dice negli Stati Uniti che Michael Jackson è stato il suo professore di inglese. Ha citato un celebre brano di Michael Jackson in occasione del Global Chitzen Award. Dice che il modo migliore per apprendere l'inglese in occasione della 79esima Assemblea Generale dell'ONU a New York è proprio l'ascoltare la musica e ha citato il re del pop chiamandolo il suo professore di inglese. Ovviamente la musica è uno dei metodi per apprendere anche le lingue straniere. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video. Arrivederci e grazie.